Il 2017 si apre con una classicissima del calcio Umbro. La capolista Bastia infatti ospita la Narnese che ha chiuso in crescendo il 2016 stabilizzandosi nella zona centrale della classifica. I rosso-blu si presentano al comunale senza la coppia centrale titolare Angeluzzi e Ponti. In mezzo alla difesa giocano dunque Cavalieri e Brozzetti e nel 4-2-3-1 Narnese, Chiani, Raggi e Fenici sono di sostegno a Quondam. Nel Bastia invece è fuori il capitano Marchetti per squalifica. Al suo posto Mezzala gioca Montanucci. Per il resto consueto 4-3-3 per Grilli con il tridente d'attacco formato da Stirati, Maiella e Bura. Arbitra l'incontro l'incecco di Perugia, coadiuvati da Benedetti e Tini Brunozzi. Se la Narnese dimostra di non aver timori reverenziali verso la capolista è comunque nel Bastia la prima conclusione, questa di Mazzuani che non crea eccessivi grattacapi a Kunzi. La risposta all'osso blu è in questa punizione di Raggi al diciottesimo, che a qualche tifoso ospite in tribuna dà l'illusione della rete. Sono solo schermagli iniziali, niente a che vedere con quanto succede quando si accendono burre Stirati, ma Kunzi al ventesimo risponde presente. Un primo tempo in cui entrambi le squadre fattigano a prendere in mano le redini dell'incontro, si chiude senza altri brividi di sorta. Di tutta altra pasta è l'avvio della ripresa. Al terzo gli ospiti mettono in moto i loro tre uomini di maggior qualità. Sponderea di Quondam, passaggio di Chiani e tiro a giro di Raggi, palla che sfiora il palo. Passa un minuto e Quondam ci prova su punizione. Bracca lenti devia in bello stile. Il Bastia replica su corner, ma il colpo di testa di De Rosa non inquadra la porta. Sono passati appena sei minuti dall'inizio del secondo tempo. Un fuoco di paia? Questo sembra essere perché il proseguo della partita continua sulla farzariga del primo tempo. Esce al settantesimo De Rosa per l'infortunio sostituito da Berrettoni, ma per vedere qualcosa di interessante bisogna basarsi sulle iniziative dei singoli. Stirati al settantacinquesimo, dribbla Brozzetti e mette in mezzo. Kunzi riesce a negare la rete. Abura per ben due volte, la seconda in collaborazione con Cavalieri. Tre minuti più tardi sempre Stirati che scappa via, ma il suo tiro cross non ha gli esiti sperati. Gli inserimenti di Grifoni per Fenice e soprattutto di Gaggiotti per Chiani sono figli di queste occasioni Bastiole, con Sabatini che aumenta così il tasso difensivo della propria squadra. Stirati, visto che come stoccatore non ha trovato fortuna, ci prova come assist man. All'ottantanovesimo trova il corridoio per Maiella, che però non è il consueto Killer Instinct. E la Narnese dunque, uscita in indenne, tenta il gormpaccio. Grifoni mette in mezzo per Quondam, che arriva con una frazione di secondo di ritardo. Finita manco per idea. In pieno recupero il Bastia recrimina per questo presunto fallo su Maiella. La parola alle immagini. Finisce 0-0, un risultato che complessivamente ci può starci, visto il gioco e il numero di occasioni prodotte da entrambe le squadre. E' chiaro che la spinta che il Bastia ha dato nella ripresa, specie verso la fine della partita, fa propendere più la bilancia del rammarico verso la parte bianco-rossa degli schieramenti. Se uno analizza la partita, loro di occasioni, mi ricordo il tiro a giro di Lorenzo Raggi, che ha sfiorato l'incrocio. Però mi ricordo anche, soprattutto, un secondo tempo importante da parte nostra, dove abbiamo creato tanto. O per sfortuna o per poca precisione siamo stati, o per bravura anche del portiere loro, perché ha fatto due parate veramente miracolose. Gli ho fatto anche i complimenti. Sì, il secondo tempo, onestamente, se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. In primo tempo abbastanza equilibrato. E poi c'è stato questo episodio del rigore non dato, che l'hanno visto tutti. L'arbitro che poi ha arbitrato benissimo, perché io ho fatto anche i complimenti. Ho detto, hai arbitrato una partita veramente bene, è stato sempre presente, vicino sempre all'azione. Andiamo a casa del Bastia, anzi faccio i complimenti, giocano veramente bene. Con giocatori fortissimi come Stirati, mi ha impressionato tantissimo Fiordiani, che è un giocatore veramente eccezionale. Noi siamo venuti su, abbiamo fatto la partita nostra, faccio i complimenti alla mia squadra, perché anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, anche il Bastia ha avuto le sue occasioni. Quindi, che devo dire, è una partita difficile, però un punto ce lo teniamo ben stretto. Un breve telegrafico su quell'episodio, perché ne parlano tutti, è giusto sentire anche la campana, tra virgolette, rosso blu. Guarda, io sono sempre molto sincero, io stavo distante, ma se tutti quanti dicono che era rigore, era rigore. Cioè, che ti devo dire, se io stavo là, però se tutti quanti, se 40 persone dicono che era rigore, c'era. Ok, grazie.